ciao a tutti oggi daremo un'occhiata alle impostazioni della fotocamera di hollywood tutto quello che devi fare è copiare queste impostazioni quindi metti in pausa anche il video ogni volta che ne hai bisogno andiamo venuto e scriva qui personalizza i suoi controlli comandi allora alternativo c'è effetto grilletto no no vibrazione non ne voglia blocca inizia animazione scatta analogico no poi tutte queste cose vi farò un video non vi preoccupate cambio aiuto movimento cambio automatico sì se mi vabbè inizia a mette queste e poi la telecamera ora passi alle impostazioni della sua fotocamera postazioni stazioni video no voglio non è qua visuale ok tribuna stampa personalizzata 20 ciao vi è rotto 0 10 10 10 ma questa non è tribuna stampa tribuna stampa 20 0 ma no ah ok mosi guardate che bei colori stas tu campo guardate sterba quanto è bella